Stavo facendo un po' di lavori su questo vecchio Power Mac G5, come potete vedere lì c'è l'eopard installato e niente, praticamente io ho collegato questo Power Mac G5 a una rete perché mi serve avere l'accesso a internet però questa rete è una rete wifi che si collega a un'altra rete wifi qua sotto c'è un ripetitore perché questo Mac non ha l'airport quindi dovevo per forza usare un cavo ethernet e questo qua invece è un Macbook Pro e con questo Mac mi sono collegato alla stessa rete wifi di questo qua quindi se io là sopra condivido qualcosa, qua sopra condivido qualcosa, nella rete i tuoi computer si vedono e si possono scambiare file eccetera eccetera una cosa particolare che volevo provare a fare è la condivisione schermo praticamente se noi andiamo nelle preferenze di sistema e andiamo su condivisione possiamo trovare condivisione schermo quindi se io la abilito e vado nel finder del Mac nuovo ecco qua Power Mac G5 quindi se io ci faccio doppio clic condividi schermo e posso controllarlo da remoto come potete vedere io il mouse non lo sto toccando però lo posso controllare da questo computer qua fin qui nulla di speciale la cosa bella è che a quanto visto funziona anche all'inverso cioè il Power Mac G5 può controllare il nuovo Macbook Pro quindi adesso proviamo a farlo basta andare su qua stessa cosa sulle impostazioni di sistema perché in ventura hanno cambiato le impostazioni andiamo su condivisione condivisione schermo e ora se qui vado nel finder ecco qua ovviamente non lo riconosce come quello che è perché questo Mac è troppo vecchio per riconoscere questo Macbook perché è troppo nuovo però se io vado su condividi schermo ed ecco qua abbiamo praticamente un loop infinito perché a questo punto io ho questo Mac che sta controllando questo Mac che sta controllando questo Mac eccetera 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 quindi non funziona molto bene così però basta che io vado qua e quitto condividi schermo ecco e ora praticamente abbiamo un Power Mac G5 con la possibilità di utilizzare ventura da remoto ovviamente il cursore del mouse è piccolissimo penso perché non è abituato ad avere questo tipo di scaling non lo so che problema c'ha però sembra che sia funzionato sì ovviamente ha una qualità di merda però funziona quindi io a questo punto vorrei provare a vedere cos'altro funziona vediamo che cosa c'è però io vorrei vedere se funziona questa cosa qui la condivisione DVD CD a che serve questo? essenzialmente nel 2008 quando uscì il MacBook Air fu il primo Mac a levare il DVD drive ovviamente però all'epoca il drive DVD serviva per installare i software come lo stesso Mac OS Leopard quindi si aveva la necessità di avere una sorta di drive o esterno oppure Apple all'epoca dava la possibilità di installare un software su Mac cioè in realtà su Mac funzionava out of the box oppure su un computer Windows come quello là per poter utilizzare il disk drive di quel computer da remoto sul MacBook Air non credo però che questa cosa funzioni perché se io vado qua non so come mi dovrebbe uscire nel Finder proviamo tipo a inserire un disco qua dentro tipo questo è un se riesco a prenderlo sempre questo è un DVD di installazione di Leopard che ho creato io ho fatto tutta la grafica quindi comunque contiene Leopard quindi dovrebbe funzionare vediamo se lo legge ok dopo tipo un milione di anni Leopard ha montato il disco di Leopard questo lo possiamo anche chiudere in realtà sul desktop appare com'è che si installa il DVD qua non esce niente però se proprio vogliamo fare una stronzata io per vederlo potrei fare così ok ci siamo ecco qua il sì ok lo legge anche con la grafica DVD sharing setup ok questo mi sa che serve per si è verificato un errore il pacchetto non può essere installato sul volume e direi e vabbè ma comunque non andrò a installarlo ovviamente l'applicazione non me la fai seguire perché è troppo vecchia non può essere eseguita sulle nuove versioni di macOS però a cosa è servito questo video essenzialmente a niente volevo soltanto farvi vedere questa cosa giusto perché di solito vediamo Apple come quell'azienda che taglia tutti i servizi legacy insomma sappiamo che per esempio su Windows si possono eseguire applicazioni 64 bit 32 bit mentre su Mac se non si aggiornano le applicazioni e le ultime versioni non possono essere utilizzate per esempio però abbiamo potuto vedere che in questo caso una sorta di supporto legacy per alcune cose è rimasto certo magari avrei preferito di più il supporto per le applicazioni vecchie piuttosto che la possibilità di controllare un Mac nuovo da un Mac vecchio però niente se avete un Power Mac G5 avete un Mac nuovo potete controllarlo col software integrato in Mac OS X io spero che questo video vi sia piaciuto se fosse stato così commentate, iscrivetevi mettete un mi piace seguitemi su Instagram se lo volete il link ovviamente lo trovate in descrizione detto questo io vi saluto e noi ci vediamo dall'altra parte grazie a tutti